Cilento, Salerno, tutela della pesca costiera. L'onorevole Attilio Pierro presenta interrogazione all'Ollo Brigida in merito alla pesca. Pierro nella sua nota ha evidenziato la differenza significativa tra la pesca a pannaggio delle piccole medie imprese e quella delle grandi aziende che a volte sottraggono il pescato alle altre. La proposta dell'onorevole è quella di permettere agli armatori di effettuare annualmente una scelta tra svolgere l'attività di pesca dei piccoli pelagici oppure dei grandi pelagici al fine di limitare, da un lato, lo sforzo di pesca sulla risorsa dei piccoli pesci da parte delle grandi imbarcazioni, che comunque conserverebbero il diritto di pescarli e dall'altro una maggiore efficienza ed efficacia complessiva, in quanto contempererebbe al meglio gli interessi di tutte le parti interessate. La piccola pesca costiera è da salvaguardare e tutelare in quanto, soprattutto rispetto agli altri metodi di pesca, utilizza attrezzi selettivi e a basso impatto ambientale dichiara Pierro la piccola pesca costiera non danneggia i fondali ed evita sprechi, catture accidentali e rigetti.